In A11 in direzione Pisa, traffico bloccato e 5 km di coda per un incidente avvenuto all'interno della Galleria di Serravalle. Si consiglia a tutti i veicoli di uscire a Pistoia. Coda tra Firenze Ovest e Prato Est. In A1 in direzione Roma, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Coda in uscita a Firenze Sud e un km di coda tra la variante di Valico e Calenzano per incidente. Sulla FIPILI rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'allacciamento per la A1 in direzione Firenze e rallentamenti per lavori tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord Est in direzione del Vivio Firenze Livorno. A Firenze per i lavori della tramvia a cambio del senso di marcia in Viale Cadorna. Buon sito Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!